Le esperienze pre-scelte dimostrano che la conferenza di servizi può essere veramente una risorsa, è uno strumento di semplificazione del procedimento amministrativo e quindi avverando quelle che erano le finalità per le quali la conferenza di servizi era stata pensata per il risultato degli anni 90. In effetti, in entrambi i casi, si realizza l'effettivo impiego dello strumento telematico per potenziare la semplificazione delle fasi del procedimento. Grazie